E come ogni venerdì è il momento dell'inclusione in onda, do subito il benvenuto ai nostri ospiti Serafino Graziano Leuzzi, Presidente dell'Associazione Gli Amici di San Pio. Buongiorno, benvenuto, bentrovato. Buongiorno. E' in collegamento con noi il Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, Vincenzo Falabella, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. Allora, dal 14 al 16 ottobre ad Assisi si è tenuto il G7 Inclusione e Disabilità. Lei, dottor Falabella, vi ha preso parte. Che cosa è emerso di interessante? Ma innanzitutto abbiamo avuto la possibilità di aprire questo G7 e invitare gli stati parti, coloro i quali hanno preso parte a questo G7, a cambiare rotta e ad avere maggiore attenzione nei confronti dei cittadini e cittadine con disabilità in ogni parte del mondo. E' stata sottoscritta la carta di Solfagnano che proprio ieri è stata consegnata al Santo Padre in Vaticano. Anche lì abbiamo chiesto che venga quanto prima avviato un confronto costruttivo e propositivo affinché anche la Santa Sede possa ratificare quanto prima possibile la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ecco, dunque un diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Siamo ancora lontani da questi obiettivi, Falabella? Allora, siamo molto vicini da un punto di vista politico, nel senso che finalmente la politica ci ascolta e finalmente la politica ascolta le nostre istanze e le nostre richieste. Siamo molto lontani dall'applicare concretamente i principi che sono stati discussi all'interno del G7 perché le giurisdizioni dei paesi che hanno preso parte a questo G7 sono completamente differenti. Se ci soffermiamo sul nostro sistema Italia possiamo vedere come abbiamo delle normative all'avanguardia ma poi queste normative poco impattano sulla vita vissuta dei nostri cittadini e delle nostre cittadine con disabilità e delle loro famiglie. Ecco, lei parlava della carta di Solfagnano che è stata consegnata o sarà consegnata a Papa Francesco? E' stata consegnata proprio ieri, stamattina su Avvenire c'è un bello articolo con delle interviste dove sono state poste in essere tutte quelle considerazioni che sono il frutto, la sintesi di questo importante evento che si è tenuto ad Assisi e a Solfagnano il 14, il 15 e il 16 di ottobre. Leuzzi, che cosa si sente di aggiungere alle parole del dottor Falabella? Diciamo che il dottor Falabella ormai ha detto tutto quello che nel G7 si è potuto dire e noi crediamo in questo percorso che si sta facendo. Noi poi con Fish, con il dottor Falabella che ci rappresenta e vediamo un futuro migliore nell'inclusione delle persone con disabilità e crediamo che la politica ci ascolti sempre di più. Speriamo solo che, come dice il dottor Falabella, che si attui di più il percorso in essere. Lei è presidente dell'Associazione Gli Amici di San Pio. Ricordiamolo, non so se l'avete fatto la settimana scorsa quando in studio c'era Tony, però di che cosa si occupa la vostra associazione? Noi c'è quello dei diritti delle persone con disabilità. A 360 gradi? 360 gradi, sì. Ci sono attività in questo momento storico, in questi giorni, in queste settimane? Noi abbiamo un evento il 30 di ottobre per quanto riguarda la giornata mondiale dell'ictus. Il 30 ottobre è qui a San Giovanni Rotondo, nel Chiostro Comunale. E quindi poi sicuramente avremo modo di parlarne. Poi 8 e 9 novembre, dove il presidente Falabella sarà presente al Palazzo Dogana a Foggia per l'inserimento della terapia occupazionale nelle strutture sanitarie nella regione. Molto interessante anche questo argomento. Dottor Falabella, vogliamo fare un riferimento anche all'evento di cui parlava Leuzzi poco fa? Beh, sì. Il diritto alla salute, che poi si racchiude nell'evento del 9 novembre, è un diritto fondamentale previsto dalla nostra Carta Costituzionale. Come dico sempre, visto che si parla di vita indipendente, di consentire alle persone con disabilità di vivere indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, l'obiettivo si raggiunge attraverso tre pilastri fondamentali. Il diritto alla salute, il diritto alla formazione e il diritto al lavoro. Sono tre aspetti, tre pilastri fondamentali per garantire inclusione e pari opportunità. Siamo prossimi alla legge di bilancio. Ora ci mettiamo alle spalle i tre giorni umbri per sollecitare il governo a far sì che le promesse e gli impegni assunti al Sorfagnano non rimangono solo sulla carta. Quindi occorre che il governo investe risorse per consentire alle persone con disabilità e le loro famiglie di migliorare quella qualità di vita che oggi hanno raggiunto. Tanti stigmi e pregiudizi bisogna superare per far sì che quell'articolo 3 della nostra carta costituzionale e quei principi di uguaglianza, di pari opportunità che peraltro lo ha ribadito anche il Santo Padre nell'incontro di ieri. Costruiamo delle società che non siano società di scarto, ma che siano società che includono chiunque, a partire dalle persone con disabilità. E si può fare, si può raggiungere questo obiettivo se ci sono risorse necessarie e indispensabili per mettere in concreta applicazione le norme che sono state costruite nel nostro Paese. Salute, formazione e lavoro. Le lancio una provocazione, la lancio anche a Graziano Leuzzi in studio con noi questa mattina. Possiamo tornare sul sito del G7 Inclusione e Disabilità, perché c'è una foto veramente bella, oserei dire iconica. C'è questo ragazzo con sindrome di Down che fa il caffè. Negli anni passati, eccola qui, molto bella, quindi che probabilmente fa il barista. Negli anni passati, Padre Pio TV ha dedicato una serie di servizi all'inclusione sociale, quindi abbiamo raccontato l'inclusione lavorativa in diverse realtà da nord a sud del nostro Paese. Quando vediamo un'immagine del genere farà bella, diciamo, ah che bello, sarebbe, come dire, nel futuro immaginiamo un bar, ristoranti, in cui possa esserci l'inclusione di persone con disabilità. Resta un sogno, resta un'utopia. In qualche Paese avviene tutto questo, però siamo lontani da un'inclusione totale. Beh, oggi solo il 20% della popolazione italiana con disabilità riesce ad accedere al mondo del lavoro. L'80% non lavora, quindi sicuramente occorre cambiare politica in seno al mercato del lavoro, occorre defiscalizzare il costo del lavoro, occorre mettere la persona giusta al posto giusto. L'aspetto e colorizzazione di questa fotografia non deve rimanere tale, ma deve consentire al mondo, al nostro sistema, al sistema Italia, di poter costruire un'inclusione lavorativa che sia realmente rispondente ai bisogni oggettivi e soggettivi dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici con disabilità. È possibile? È possibile, anche perché uno degli otto punti della carta di Solfagnano, che si è discussa al G7, vuole dire, noi assorazioni, non la nostra, proprio le assorazioni del tutelare dei disabili come FISH, sono proprio i punti che cercano di valorizzare per l'inclusione lavorativa. Ci sono anche delle leggi, delle normative che tutelano le persone con disabilità all'inclusione lavorativa. Il problema è, come dice il dottor Fallabella, cercare proprio di spingere questa normativa ad essere attuata, cercare di dare proprio degli aiuti anche alle aziende per poter assumere queste persone. E poi bisogna anche in qualche modo cercare di cambiare mentalità, un po' visione delle cose. Sì, le aziende devono cercare di vedere questa persona non disabile, ma vederla da un altro punto di vista. Come un'opportunità anche. Anche come una risorsa, perché sono delle persone con disabilità che sono delle risorse, non sono persone disabili. Esatto, delle risorse. Posso aggiungere una cosa su questo? Chiedo scusa, non voglio prevaricare la sua regia e la sua conduzione, però occorre che il nostro sistema Italia modifichi l'attuale sistema di welfare. Mi spiego. Oggi noi abbiamo un welfare di protezione e di assistenzialismo. Ebbene, dobbiamo superare questo concetto e arrivare a costruire un sistema che valorizzi la persona in ogni ambito della vita. E quindi per valorizzare la persona occorre riconoscere i diritti e pari opportunità. No, no, giustissimo quello che dice. Quindi la valorizzazione non sempre l'assistenzialismo. Questo è fondamentale. Su questo volevo aggiungere la legge 68 del collocamento mirato. Molte persone con disabilità si recano all'Inps per la legge 68. Però poi rimane chiusa in un cassetto perché quando poi le persone si recano per un posto di lavoro, con la legge 68, poi l'azienda dice va benissimo, sì, però non so dove poterti collocare. Quindi le persone si sentono poi escluse. Quindi parliamo di inclusione, ma in realtà poi c'è solo esclusione. C'è solo esclusione. Bisogna davvero battersi per questo. C'è ancora da lavorare tanto. C'è ancora da lavorare tanto. Però grazie anche alla vostra associazione, grazie alla FISC, grazie alle persone che in qualche modo, magari imprenditori illuminati che possano realmente, come abbiamo detto, considerare le persone con disabilità una risorsa da valorizzare all'interno della propria azienda. Grazie al Presidente nazionale della FISC, Vincenzo Falabella, per essere stato con noi. Ricordiamo che lei è anche rappresentante del Consiglio nazionale del terzo settore presso il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Grazie a Serafino Graziano Leuzzi, Presidente dell'Associazione Gli Amici di San Pio, per essere stati con noi. L'inclusione in onda torna venerdì prossimo su Padre Pio TV. Grazie, buona giornata ai nostri ospiti. Buon lavoro, grazie per quello che fate. Non so se devo dare la linea alla regia o se abbiamo pubblicità o se possiamo... Ok, sigla e poi andiamo in pubblicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.